Musica Udinese Messina ore 18 di sabato, spettatori pochi, freddo tanto, Cosmi che in settimana aveva minacciato di tornare a fare il Cosmi deve rinunciare a Iaquinta infortunato e manda in campo quella che lui definisce la fanteria cinese ovvero l'attacco inedito formato da Di Natale, Di Michele e Barreto e fa esordire il colombiano 19enne Zapata che sostituisce Sensini di 30 anni più anziano di lui imperativo categorico per l'Udinese battere il Messina privo di Zampagna con il solo di Napoli in attacco ma l'egemonia dei padroni di casa non trova sbocchi di fronte alla difesa del Messina che nel primo tempo si fa pericoloso con il solo coppo, l'ha detto il gattuso dello stretto, in odore di contratto a vita a volare piuttosto storari 100 partite con il Messina, grande prima su Di Natale poi su Montari il tutto nel giro di un minuto, il primo del secondo tempo l'Udinese prova allora a bypassare la solida difesa del Messina provandoci da lontano clamorosa la traversa di Montari e su Di Natale storari c'è poi a 4 minuti dalla fine il primo gol in campionato di Felipe su angolo di Montari e adesso il Panathinaikos